è forte si è fantastico, non è vero è forte no, non distrova quel forte mi viene a vomitare ora smettila di girare non so come ci pare semplice così non so se ci riesco potrei lasciarti qui sei solamente un mortale, dopo tutto non pensarci nemmeno vampiro io vengo con te bene, allora cominciamo con un passettino ok dammi la mano non lasciarmi ripeti a te stesso che stai flottuando come una foglia nel vetro ok, ok posso farcela, poi ci viene anche la piccola non può capitare che a prendere giù un bel po' di neve ora basta con le scuole si posso volare? posso volare? potrei anche abituarmi in fondo wow posso volare? non ne ho mai dubitato e questo è forte fortissimo guarda non devono essere lontani è il vampiro mozzoso ci scommettò la vita la sua il cacciatore di vampiri papà devo trovare i miei genitori capisci? io so dove potremmo cercarli certo è ovvio abbiamo l'aspetto di vampiri qui voi non siete quelli che vivono nei cimiteri nelle cripte opposte del genere voi mortali state sempre lì a fare congetture ma se vogliamo essere onesti è vero andiamo no vado io a dare un'occhiata ci andiamo insieme non puoi incontrare i miei genitori mi dispiace Tony ma le cose stanno così no non l'ho capito figlio la colazione una merenda forse anche ma te no ma non potrai mai essere suo amico vuoi avere il tuo amichetto mortale o essere membro di questa famiglia una cosa o l'altra la vita è tua no 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 Grazie.